Quello che noi stiamo facendo funziona, stiamo rivolgendo alle liste civiche, agli amministratori locali, sindaci, assessori, a persone che vengono dalla società civile che vogliono un qualcosa di nuovo, perché guai a riproporre schemi vecchi, a sepolcri biancati, a rimettere assieme una serie di sigle che saprebbero tanto di unire cose vecchie, che poi tutte assieme restano una cosa vecchia, e invece bisogna creare un qualcosa di nuovo, di alternativo, di credibile per far sì che ci sia un'alternativa alla sinistra, perché oggi la sinistra vince perché non c'è alternativa. Dove sta la sinistra noi non ci siamo e dove invece la sinistra vota noi votiamo di sì, cioè siamo proprio antitetici al loro modo di ragionare, di muoversi. La prospettiva è quella che siccome non è che sei costretto a mettiti assieme a qualcun altro, noi andiamo avanti in maniera credibile, seria e concreta, dopodiché cercheremo di costruire quello, faccio l'esempio del Veneto, il Veneto si è riuscito a costruire un soggetto, un cosiddetto quarto polo, perché alla fine in Veneto c'è stato il centrodestra, Salvini, Berlusconi e Meloni, c'è stato il PD, c'è stato Grillo, c'è stato Flavio Tosi e poi di fatto null'altro. Quindi questo è quello che dobbiamo riproporre a livello locale nelle grandi città e anche nei piccoli comuni e soprattutto a livello nazionale. Un suo commento sulla nuova maggioranza di governo che si è creata con la nuova ormai legge, Cirinna. Ma non è che sia creata una nuova maggioranza di governo, si è dimostrato, come si suol dire plasticamente, quella che è la situazione del PD. E quindi è passata al Senato la riforma costituzionale, perché anche noi, noi siamo stati determinanti nel raggiungere il quorum, perché anche noi abbiamo ritenuto che piuttosto che la non governabilità, perché a ottobre la battaglia referendaria, noi lo sosteneremo il referendum, sarà fra la non governabilità, è inutile criticare dicendo Renzi non è stato votato dagli italiani, Monti non è stato votato dagli italiani, Lettera non è stato votato dagli italiani, certo c'è l'ingovernabilità, c'è un sistema elettorale sbagliato che fa in modo che nessuno vinca le elezioni. Renzi deve chiarire però se vuole avere un partito più moderno e quindi slegarsi dai ricatti della sinistra che fa danni, perché è reazionaria e distruttiva, oppure se va avanti in questo modo, ma questo è un problema suo, non è un problema nostro. Noi andiamo avanti coerentemente, non stiamo nella stampella di Renzi, non stiamo nella stampella di nessun altro, andiamo avanti coerentemente con le nostre idee. Volendo non può chiedere cari Ege, Ministeri, Poltrone, non abbiamo chiesto nulla proprio per essere liberi di agire in maniera coerente.